Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. La nostra regione guarda con grande interesse alle prospettive di collaborazione che si vanno profilando con la Ilport, il gruppo turco, che ha ottenuto la concessione del molo polisettoriale del porto di Taranto e la China Ocean Shipping Company, compagnia di Stato cinese, attiva nei settori della logistica, trasporti e spedizioni con sede a Pechino. In questi giorni, prosegue Borracino, si è svolto un incontro tra i vertici di queste due grandi realtà imprenditoriali, definito dagli stessi protagonisti, molto costruttivo e fruttuoso e foriero di una possibile cooperazione su scala globale. Noi auspichiamo, afferma Borracino, che questa imminente collaborazione tra il colosso turco che gestisce il molo polisettoriale del capoluogo ionico e la compagnia di Stato cinese Cosco possa coinvolgere anche il porto di Taranto, che potrebbe diventare uno snodo di fondamentale importanza nell'ambito della cosiddetta Nuova Via della Seta, l'imponente progetto infrastrutturale che collegherà l'Estremo Oriente con l'Europa. Sarebbe questo un risultato straordinario che premierebbe gli sforzi che il tessuto produttivo e imprenditoriale pugliese e in particolare ionico, oltre alle organizzazioni sindacali e alle associazioni del territorio, hanno posto in essere per sensibilizzare i vari livelli istituzionali sull'inserimento del porto di Taranto nell'ambito della Via della Seta. Si tratta di una proposta che, conclude Borracino, come noto, anche il sottoscritto nello svolgimento dell'attività di Assessore allo sviluppo economico insieme a tutto il Governo regionale e al Presidente Michele Emiliano, ha sempre avanzato, ritenendo questa un'opportunità di straordinaria importanza per la crescita economica e occupazionale del territorio pugliese e di quello ionico in particolare. Auspico pertanto una positiva prosecuzione dell'interlocuzione tra Il Porto e Cosco che possa portare benefici anche a Taranto e alla Puglia intera.